Siracusa via Algeri, sassaiola contro la municipale tra serietà di stampa e ilarità. Riceviamo e volentieri pubblichiamo la nota del comandante della Polizia Municipale di Siracusa, dottor Enzo Miccoli. L'articolo apparso sulla pagina web della testata da Ella Diretta intitolato Siracusa, attirati in trappola dai chiamata, macchine della municipale prese assassate, agenti a gambe elevate, riporta fatti che non corrispondono alla realtà. Nessuna imboscata, nessuna telefonata allarmata, ma normale controllo del territorio, nessuna sassaiola, ma soprattutto nessuna fuga a gambe elevate. Il fatto, certamente grave, consiste in un vile danneggiamento dei mezzi di servizio, ancora a opera di ignoti. La ricostruzione fatta nell'articolo non solo è palesemente errata, ma sembrerebbe anche non prendere in considerazione il lavoro che gli agenti di Polizia Municipale, su direttive del prefetto e del questore, stanno svolgendo ogni giorno in piena crisi emergenziale a tutela della comunità cittadina. E sembrerebbe, da una prima lettura, che il racconto dei fatti sia incentrato sul presunto timore generato negli agenti che fuggono davanti a un atto di danneggiamento del patrimonio pubblico, piuttosto che sulla perpetrazione del vile atto. Non si può commentare in questo modo sul lavoro duro e difficile degli uomini che mi onoro di comandare e che stanno dando alla città un servizio che giornalmente riceve il pauso dei cittadini stessi e farlo diventare per il lettore del suo giornale un momento di larità. Lei fa un servizio essenziale, fondamentale, di informazione dei fatti della città, continua a farlo come sempre ha fatto e sta continuando a fare, avendo cura però di osservare, con attenzione e con una visione ancora più ampia, lo sforzo costante e giornaliero del servizio di assistenza che la Polizia Municipale svolge con spirito di sacrificio verso la nostra comunità. La saluto cordialmente con preghiera di pubblicazione, il comandante Enzo Micoli. Rispondiamo con gentile dovizia. A Libertà Sicilia piace confrontarsi e socializzare anche ove possono emergere divergenze di vedute che non spaventano e che anzi spronano a continuare con la stessa passione la missione propria del giornalismo militante. Ripenso al detto di Voltaire che gli uomini si servono delle parole per celare i loro pensieri e dei pensieri per giustificare le loro ingiustizie e noi riteniamo di non aver fatto nessuna ingiustizia nei confronti del Corpo di Polizia Municipale. Nell'articolo in questione da una semplice e più accurata lettura si è premesso chiaramente e testualmente riguardo all'episodio occorso, basate bene, è un atto di inciviltà inqualificabile. Gli agenti della Municipale sono accorsi con due auto per fare rispettare il dispositivo del decreto. La disperazione dei residenti ha preso il sopravvento alla vista degli agenti e si sono rivoltati contro tanto che se la sono fatta a gambe levate con appresso una ventata di sassi su di loro. Si sono rifugiati all'interno della pista ciclabile impregando Dio che non gli accadesse il peggio. Come è facile desumere nessuna hilarità, si è riportato correttamente il fatto increscioso che come ogni notizia suscita legittime considerazioni conseguenziali e doverosi spunti interpretativi della realtà già rilevata. Niente di più e niente di meno fin quando si esercita la libertà di opinione costituzionalmente protetta che sono sicuro anche a lei sta a cuore. Come sempre, prima di scrivere abbiamo indagato e fatto alcune telefonate di verifica aggiungendo così a fonti di autorevole considerazioni sulle quali abbiamo costruito l'informazione e ci siamo ulteriormente chiesti una volta appreso gli eventi dove erano gli agenti quando le auto incustodite risultanti oltretutto patrimonio pubblico, quindi doverose di attenzione sono state prese di mira dai cittadini arrabbiati. Non è dato sapere, forse risulterebbero scomode verità. Peraltro la vicenda è stata riportata anche da altri mezzi di informazione dove i fatti riportati evincono che la Polizia Municipale si sia regata a causa di una segnalazione per un controllo su attività nell'area antistante viaggieri. D'altronde si deduce dalla lettura che risulta innegabile come lei asserisce la sassaiola a scapito dei malcapitati agenti. Non valevamo infierire sul lavoro encomiabile svolto dal corpo della Polizia Municipale a cui rivolgiamo tutta la nostra seria considerazione per l'operato svolto sul territorio. A tal riguardo, nei nostri articoli, divulghiamo da sempre ampi servizi in virtù della gratitudine al servizio arreso. Per carità di Dio, nessun incidente diplomatico con il Corpo di Polizia Municipale che con dedizione e rispetto svolge un lavoro sul territorio reputato professionale alla pari di altre forze di polizia. Il direttore è il dottor Giuseppe Bianca.